Welcome back my sporty friends on the second channel of Papyrus. I'm very happy to say that Robin English is the new footballer of Parma Calcio. Oh, wonderful! Scusate ragazzi, questa gag la volevo fare veramente da tantissimo tempo. Roberto Inglese è un nuovo giocatore del Parma Calcio. Io sono veramente contentissimo di questa notizia perché dopo la sconfitta contro il Pisa ci eravamo resi conto che serviva una marcia in più, serviva a investire di più sul mercato e questa è la risposta che la società doveva dare assolutamente ai tifosi. Roberto Inglese è un giocatore fantastico, un giocatore da doppia cifra assoluta, quindi serve uno come lui che segni come lui per poterti salvare. Io sono contentissimo di questo. Nel frattempo ragazzi vi invito a scaricare OneFootball che trovate qui sotto in descrizione, la migliore applicazione in assoluto per quanto riguarda le notizie sportive. Mi raccomando, la trovate qui sotto in descrizione, scaricata assolutamente. Il mercato del Parma è finalmente partito, mancano pochissimi giorni, veramente due, tre giorni alla fine del calcio mercato. Dopo la sconfitta col Pisa ci siamo resi conto che bisognava cambiare totalmente la squadra. Sono in vendita quasi tutti praticamente, non si capisce più chi sarà il titolare, chi no. Stanno arrivando una marea di giocatori, oltre a inglese sta arrivando anche Grassi sempre dal Napoli. In totale tutti e due verranno in prestito con dei riscatti ovviamente e contro riscatti per un totale tutti e due tra prestiti eccetera eccetera di 8 milioni di euro. Veramente una cifra importante, se ci pensate per due prestiti sono cifre molto importanti. Però sono Roberto Inglese e Grassi, che sono due ottimi prospetti da media classifica. Grassi è un centrocampista fantastico, si è infortunato ma adesso è ingranato molto quando ha giocato con la spalla, ha giocato molto molto bene. E Inglese lo conosciamo tutti quanti. Ragazzi Ancelotti se ne è innamorato quando lo ha visto allenarsi con il Napoli, tant'è che aveva chiesto di non venderlo. Però ci si è resi conto che l'avrebbero assolutamente bruciato con Mertens e Milik là davanti che gli bloccavano il posto. Giustissimo vendolo al Parma che ha bisogno dell'attaccante titolare e giustissimo appunto per noi che festeggiamo il suo arrivo. Io sono molto contento di questo, ovviamente per me nella mia scelta, la prima scelta è normale che per me fosse Balotelli, però quello lì era un sogno, un sogno irrealizzabile, chissà se succederà ma credo che sia abbastanza impossibile. Le cifre sono elevatissime, veramente si parla di cifre astronomiche che il Parma non si può assolutamente permettere. Benvenga allora un Roberto Inglese che ha voglia di fare, che ha voglia di segnare per poterci salvare. Si punta addirittura, ve lo dico, ve lo dico qua, all'arrivo di Caramò dall'Inter. Si punta a un suo probabile arrivo e anche Brugman a centro campo, si parla di Jose Mari, Mauri, si parla di Rispoli terzino destro. Insomma ci sono tantissimi nomi adesso in ballo e la cosa bella è questa qui, che gli ultimi giorni di mercato saranno molto scoppiettanti. Può succedere qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa, prima di tutto bisogna vendere e poi bisognerà acquistare questi altri colpi che comunque ti possono garantire la Serie A. Roberto Inglese è un nome fantastico, un nome che poche squadre secondo me che rischiano appunto di retrocedere, che devono lottare per la salvezza possono permettersi. Un nome più di tutti e sono contento, sono veramente molto contento di questo acquisto, speriamo, incrociamo le dita, che possa fare anche meglio rispetto a come ha fatto Colchievo. Diciamo, contate che in due anni Colchievo ha segnato 22 gol, che vuol dire per un ragazzo giovane anche come lui aver disputato due ottimi campionati. Quindi io sono molto contento, speriamo che attorno a lui si possa costruire la squadra per la permanenza in Serie A. Voi cosa ne pensate per questo acquisto nel Parma? Tra l'altro io l'ho preso anche al Fanta Calcio, quindi speriamo doppiamente che possa segnare più gol possibili.